Buongiorno signori, sono Mario Pariccio, sono cliente dell'azienda Mgoldex e partecipante al programma dei buoni. Oggi mi trovo a Munich, Monaco di Baviera. Oggi mi sono venuto per partecipare al quarto evento internazionale di Mgoldex. Conoscendo l'azienda, vedendo gli uffici, conoscendo i dirigenti dell'azienda ho visto che sono persone veramente molto disponibili e aperte a tutti. Quindi il mio invito è a tutti voi, quelli che avete appena cominciato con questa grandissima opportunità e ai futuri clienti di venire a visitare l'azienda. Questa azienda è aperta a tutti. Basta solamente prendere un appuntamento cinque giorni prima e potete venire a toccare con mano questa fantastica opportunità. Vedrete che veramente qua le porte sono aperte a tutti. Quindi con questo vi auguro moltissimo successo e spero di conoscervi presto qui a Monaco di Baviera. Ricordatevi sempre, l'oro è denaro! Ricordatevi sempre, l'oro è denaro!